Ciao a tutti e bentornati sul mio canale di youtube, sono Mattia, benvenuti e benvenute oggi andremo a vedere un prodottino che mi sta davvero intrippando in questi giorni e che ho avuto modo di testare, grazie al prezzo economico riesce ad entrare nelle case di un sacco di persone ad essere poi al polso di molte altre e il bello è che insomma alla fine fa quasi tutto quello che serve perché il bello di uno smartwatch, non so se mi seguite da tanto sul canale io quando acquistai l'apple watch serie 4, quindi l'anno scorso, quasi un anno fa introdussi il video raccontando che questo è la fine e lo ancora, il mio primo orologio cioè non ho mai portato orologi perché non mi piacciono, cioè nel senso mi piacciono ma non li sopporto dopo un po' mi danno fastidio e quindi con l'apple watch ho iniziato questa carriera nel mondo degli orologi a portare gli orologi ed è il primo orologio che porto il bello di avere l'apple watch ed è stata poi la ragione per la quale ho deciso di tenerlo è che è un'estensione dello smartphone quindi in tante situazioni permette di controllare le notifiche di dare uno sguardo alle attività, alle cose da fare e anche di eventualmente rispondere quando siamo magari con le mani impegnate abbiamo altre cose da gestire, da fare avvicinando alla bocca l'apple watch parte Siri e con i comandi dati in modo molto chiaro e preciso perché poca fantasia se non capisce nulla si riescono a fare determinate azioni quindi oltre ad essere un'estensione è anche un assistente a portata di polso senza dover ricorrere ogni volta al telefono e quindi anche in alcuni contesti tipo riunioni, meeting eccetera avere il polso per poter scrivere qualcosa è sicuramente più pratico che invece prendere il telefono meno vistoso e più immediato e da lì quindi in poi ho mantenuto l'apple watch sempre al mio polso proprio per questo motivo oltre alle feature di prevenzione a livello cardiaco quantomeno aiuto più che prevenzione che abbiamo tra l'altro visto in un episodio dedicato quindi è un device che secondo me ad oggi davvero ha da invidiare alla concorrenza questo mi band 4 c'entra poco con l'apple watch perché non abbiamo uno schermo di questa tipologia con questa definizione con questo anche livello di interazione però tutto quello che vi ho raccontato prima quindi il fatto delle notifiche il fatto del poter controllare in un attimo girando il proprio polso ce l'abbiamo ed è davvero bello e mi è stupito anche questa cosa ho utilizzato due smartphone per il test iphone 10 e pixel 3a di google voi non ci crederete mai ma il mi band 4 funziona meglio con l'iphone 10 l'applicazione è identica è molto ben fatta è davvero ben disegnata progettata permette di accedere a tante funzioni non abbiamo purtroppo modo in entrambi i sistemi operativi di rispondere direttamente dal mi band cioè non possiamo mandare messaggi rispondere alle chiamate possiamo semplicemente visualizzare tutto ciò che sono le notifiche come per esempio adesso e possiamo da qua o interrompere la vibrazione dello smartwatch che figata mi stanno chiamando proprio adesso oppure buttare giù la chiamata però non possiamo rispondere come invece facciamo su apple watch per esempio ma sono device completamente diversi infatti non a caso io introduco così questo mi band perché è davvero notevole quanto come al solito xiaomi sia riuscita a proporre a creare un prodotto che costi pochissimo in relazione al suo aspetto al suo design e alle sue feature e quindi complimenti a xiaomi pure stavolta ce l'ha fatta benvenuti nel nuovo episodio ora sigla poi vediamo tutte le caratteristiche di questo nuovo mi band 4 iniziamo da un grande plus ovvero quello di essere waterproof e di essere anche molto slim sembra un braccialettino in realtà è uno smartwatch riesce a raggiungere fino a 50 metri sott'acqua e abbiamo la piena impermeabilità quindi nella maggior parte delle situazioni potremmo farci la doccia, lavarci la faccia, lavare i piatti senza doversi preoccupare di togliere lo smartwatch chiaro potremmo regarlo rovinarlo bisognerà stare un po' attenti abbiamo poi i braccialetti intercambiabili e abbiamo questo braccialetto che è quello di default venduto nella confezione dal costo di 40 euro vi lascerò il link in descrizione e vi invito anche a seguirmi su telegram nel canale delle offerte perché il prezzo scilla parecchio è arrivato a costare 50 come 20 come 30 quindi vi consiglio di insomma tenerlo monitorato perché il prezzo può cambiare il cinturino in questo caso è molto semplice la cosa negativa che ho trovato del cinturino proprio di questa versione ma alla fine guardando sul sito poi Xiaomi cambia il colore ma la sostanza è la stessa è che andando ad allacciare il cinturino e avendo questo blocco nella parte esterna quindi noi andiamo praticamente a bloccare la parte esterna all'interno con il pirulino per bloccarlo poi all'altezza desiderata quando stiamo scrivendo siamo magari sulla schivania spesso inciampa in qualcosa e ci troviamo arrestati mentre invece Apple ha avuto una cortezza diversa nell'andare a porre la chiusura diciamo il pirulino chiamiamolo in termini tecnico all'interno e non all'esterno sono proprio piccolezze nell'utilizzo quotidiano capiterà davvero poche volte quindi poi una volta che uno lo sa magari si regola di conseguenza il display è molto gradevole AMOLED ha colori ci permette di visualizzare fin da subito l'autonomia dello smartphone che è qualcosa di impressionante perché appunto essendo abituati a Apple Watch ogni giorno sei sempre lì a ricaricare qui veramente giorni e giorni e giorni e te ne frega la grande e poi abbiamo comunque il tracking cardiaco del battito ci fa anche lui un check ogni tanto e tra l'altro le pulsazioni sono insomma combacero quindi il sistema di rilevazione dell'Apple Watch con quello della Mi Band 4 entrambi sono molto buoni non abbiamo la funzionalità ECG che abbiamo sull'Apple Watch però dai anzi stare a paragonarli mi sembra un po' insomma esagerato visto che costa 10 volte meno questo ed è proprio per questo anche che ho deciso di fare il video perché 10 volte meno e avere queste feature è davvero valido davvero un ottimo prodotto abbiamo modo quindi di leggere tutto, di vedere tutto ciò che ci arriva sullo smartphone e poi abbiamo la possibilità direttamente dal menu di andare a navigare attraverso le funzionalità avanzate che sono per esempio lo stato dove ci mostra in questa giornata cosa abbiamo fatto quindi il numero di passi, eventualmente la distanza, calorie poi scorrendo abbiamo anche modo di visualizzare eventuali avvisi di sedentarietà che potremo comunque disattivare anche dall'applicazione per smartwatch poi abbiamo anche la parte relativa alla frequenza cardiaca dovremo allacciare per bene lo smartwatch quindi evitando di lasciarvi tanto spazio perché dovrà essere in grado di misurare al meglio le nostre pulsazioni e poi scorrendo con il pratico menu abbiamo l'accesso all'allenamento dove ci sono il trekking di corsa all'aperto, tapirulan, ciclismo, camminata, esercizi vari e poi piscina perché essendo waterproof potremmo utilizzarlo anche in piscina abbiamo anche le previsioni del meteo che potremo sfruttare grazie alla connessione con lo smartphone ma in particolare grazie all'impostazione della geolocalizzazione dall'applicazione dello smartphone infine troviamo nella parte delle notifiche l'ultima ricevuta e in altro abbiamo un modo di attivare il non disturbare la sveglia di avere un pannello per controllare la musica quindi con i tasti multimediali poi troviamo cronometro, timer trova il dispositivo molto comodo perché qualora dovessimo lasciare lo smartphone in giro avremmo modo di emettere un suono e di poi riconoscere subito la localizzazione del nostro smartphone grazie all'udito abbiamo modo di regolarci il display e di impostare poi la visualizzazione a piacimento personalmente quella di default la trovo davvero completa e bellina e poi abbiamo le impostazioni con la regolazione della luminosità blocco dello schermo e il riavvio del band qualora ci fosse qualche difficoltà il tasto che è l'unico con il quale potremo interagire è quello presente nella parte inferiore del device e che insieme poi allo schermo touchscreen ci permettono di muoverci, tornare indietro, disattivare determinate funzionalità si trova a circa 40 euro in giro, poi dipende dalle varie promozioni per un fitness tracker, notifiche, frequenza cardiaca, 20 giorni di batteria, waterproof e poi ci dice anche l'ora, cosa ne dite? secondo me non è niente male vi aspetto in descrizione, cioè sotto la descrizione con un commento vostro, un vostro feedback come sempre mi piace leggervi, mi piace avere un vostro pensiero in merito ai prodotti che poi vediamo sul canale video dopo video e vi aspetto poi al prossimo episodio quindi iscrivetevi qualora già non lo foste per non perdere i prossimi appuntamenti un saluto e buona continuazione su YouTube iscrivetevi qualora